In attesa di abbracciare il neotecnico Batista, la Sandra Abate ottiene un altro importante successo in campionato. I biancoverdi si impongono con il punteggio di 4-1 su Genova, una vittoria che permette a Bevedigni e compagni di continuare a sognare. Quattro successo su altrettante trasferte giocate per la compagine biancoverde che stritola nella propria morsa i Liguri impelagati in zona salvezza. Il Pini ha soli due punti dal secondo posto e a quattro dalla vetta, condivisa da Pesaro e Rieti con 19. Biancoverdi in piena zona playoff che confermano di esserci per quel sogno chiamato Scudetto. Tra l'altro gli Avellinesi hanno anche la terza migliore difesa del torneo. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Foti, ma la Sandra Abate ha saputo subito rialzare la testa. All'ottavo è Abdala a portare il punteggio sull'1-1. La Sandra Abate prende fiducia e con una gran rete di Dian Luca che si esibisce una sforbiciata a volante va ancora a segno, 19 secondi dopo. Successivamente Dian Luca centra la traversa nella ripresa alle altre due reti, dopo una bella azione manovrata di Dian Luca e Suazo e Mello con un tocco sotto a siglare il 3-1. Il solito fantasele chiude la contesa. Nel prossimo weekend riposo forzato per la Sandra Abate, Pesaro sarà impegnata in Champions League. Il match contro i campioni d'Italia è stato rinviato.